14 milioni di euro e più di mille le aziende siciliane che ne beneficeranno. Sono stati assegnati fondi a sostegno di tutte quelle ditte imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge alluvionali avvenute nei mesi di ottobre-novembre 2018 e che hanno presentato l'istanza. È stata stilata infatti dal Dipartimento Regional Agricoltura alla graduatoria. Il fondo di 14 milioni 369 mila e 16 euro, assegnato dal MIPAF, è stato ripartito in proporzione al fabbisogno comunicato dagli spettorati provinciali Agricoltura di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa e Siracusa. Nessuna istanza è arrivata da Trapani, si legge nel comunicato della regione siciliana. Le 1059 aziende ammesse al finanziamento, pioggia all'uionale ottobre 2018-novembre 2018, otterranno dunque un contributo che copre fino ad un massimo del 40% dell'importo ammissibile rispetto alle spese sostenute per strutture, produzioni e prestito credito.